A Torino, nel Museo Egizio, troneggia Tutmosi III, il grande sovrano della Diciottesima dinastia, la cui tomba fu scoperta dall'archeologo Ernesto Schiapparelli nei primi anni del Novecento, ovviamente in Egitto, nella Valle dei Re. La località è nota con il nome di Deir el-Medina, è adiacente alla Valle delle Regine, sulla riva sinistra del Nilo, luogo sacro alle sepolture, poiché ad occidente di Tebe tramonta il sole. Scavate profondamente nella collina della Cima Grande, avrebbero dovuto scoraggiare la profanazione dei ladri che già nella V dinastia saccheggiavano le piramidi. Sulla riba destra del Nilo sorgeva la città di Tebe, ricca di palazzi e templi, abbellita grazie ai lauti tributi provenienti dalle province dell'Impero, esteso dalla Siria sino alla Nubia. Tra le tante divinità, il culto di Amon era il più diffuso ed il suo tempio, costruito da generazioni di operai laboriosi, il più ricco. E di Amon Ra sono le parole di benvenuto nella terra dell'aldilà, protetta dal guardiano della sede della verità. Benvenuto a me, o figlio mio. Io sorgo per il tuo amore e il mio cuore gioisce quando tu ti dirigi al mio tempio e le mie braccia circondano le tue membra in protezione di vita. Il saluto di un sole poetico, perché tutta questa civiltà consapevole della brevità dell'essere seppe goderne le vittorie, la bellezza, le dolcezze, volendo proseguissero nell'altra sponda eternamente. Il libro dei morti, in realtà molti ne furono illustrati ed ognuno diversamente, avevano lo scopo di guidare e proteggere il defunto e come un miniato libro delle ore, con figure e parole dipinte e scritte su pareti di ostrica bianca, pietra calcarea tenerissima, accompagnavano nel delicato transito nobili e dignitari. Cinocefali musicanti accolgono l'anima mentre dei con bastone guidano colui che ha due teste e due braccia. I serpenti s'arrestano dinanzi a sette altri, muniti di coltelli appuntiti e retti sulla coda, sputano fuoco avendo il compito di arrostire i profanatori. Oro, il dio a testa di Falco, osserva che tutto avvenga come prescritto, reggendo Scetro e Lanc, un amuleto simile al tau francescano. Cobra, avvinti, ascranni, scoraggiano con il veleno vivi e morti. Solo il Falco può ammansire il serpe bicefalo. Due occhi ci osservano, nessuno, turbi atom. Un disco solare mentre allarga le ali al serpente alato. Opera di fattura squisita, semplice nel disegno, ardita nel simbolo. Il disco solare potrebbe essere il terzo occhio o un decoro del nobile. La figura di profilo, il suo naso, le braccia, le rughe simmetriche, le ali, la barba pettinata ed il serpente labbra in un sorriso ambiguo. Inizierà la processione e poi vedremo il passaggio sulla sponda ovest del Nilo. Difidiamo del pianto del coccodrillo. Lo fa dopo essersi pasciuto. La verità la conosce il serpente, saggio e silenzioso. Chissà chi tira il filo tra l'essere e la necessità, ossia la verità. Grazie.